Lo ha ammesso, era la guida, ubriaco, e ha investito la moto sulla quale viaggiava Maurizio Punzi, ma non ha ancora spiegato dove si sia procurato il furgoncino protagonista dello schianto, poi risultato rubato. Potrebbe farlo domani Carmine Cirillo, 39 anni, milanese, arrestato nella tarda serata di sabato dai carabinieri di Cantù. L'uomo, originario del napoletano, incensurato e accusato di omicidio colposo, missione di soccorso, ricettazione. Domani mattina nel carcere del Bassone sarà sottoposto l'interrogatorio di convalida del fermo. Una prima occasione per Cirillo per andare oltre le poche parole pronunciate sabato notte tra le lacrime davanti ai militari. Ho bevuto troppo, ha detto, era ubriaco, preso la strada contro mano e investito quel motociclista. Il 39enne, dopo l'incidente, ha lasciato il furgoncino in mezzo alla strada, si è allontanato a piedi senza preoccuparsi delle condizioni di Punzi. Secondo quanto ha riferito i carabinieri, dopo il fermo avrebbe vagato nei boschi per tutta la notte per poi prendere un treno per tornare a Milano il giorno successivo. I militari lo hanno identificato lavorando senza sosta sulle immagini di riprese dalle telecamere di sorveglianza nella zona dell'incidente. Meno di 48 ore dopo la morte di Maurizio, i carabinieri erano davanti all'abitazione del pirata.